Operiamo adesso la filettatura che ci serve per avvitare la parte superiore. La filettatura, se ricordate dall'altro esercizio, era basata su una elica che si tracciava nell'altro ambiente, quello delle superfici semplici. Però, per fare questo, c'era bisogno di un punto e di una traccia della filettatura. Ebbene, possiamo fare il punto in questo ambiente con lo sketch, selezionando il piano meridiano XY, entrando nell'ambiente di sketcher e fissando il punto qui, immaginando che l'elica debba partire da qui. Usciamo e questo punto, vedete, ce lo ritroveremo adesso quando faremo il passaggio al wireframe and surface design. Ecco l'icona dell'elica, che, se ricordate, aveva bisogno per partire da un punto iniziale. Ecco, vedete, schizzo 4, il punto corrisponde al punto. L'asse, chiaramente l'asse verticale. E passo ed altezza dell'elica. Adesso noi imporremo 10, perché stiamo imparando a fare l'oggetto, non a mettere le misure. E poi, l'altezza che servirà per scavare tutta la caffettiera, l'altezza del collo di questa cosa qui. Possiamo, vedete, abbondare anche, per essere sicuri che la filettatura vada a finire fino al bordo. E diamo OK.